Allora, oggi ci prendiamo una piccola pausa, diciamo così, dagli aspetti più legati alla programmazione, ma solo per oggi, perché diciamo due parole, in un certo senso introduttive, in questa prima ora e mezza quantomeno, su come progettare per il web, perché il corso è sicuramente concentrato su come realizzare tecnicamente e tecnologicamente delle applicazioni web, ma non basta che un'applicazione web funzioni, ma deve essere anche comprensibile, deve essere anche vagamente usabile, le persone devono poterci navigare senza frustrazione, senza eccessivi problemi. Quindi quello che facciamo oggi, in questa appunto ora e mezza che abbiamo, poi cerchiamo di fare un esercizio nella seconda ora e mezza, è affrontare questi aspetti che riguardano non tanto il come facciamo un'applicazione web, ma il cosa ci mettiamo dentro un'applicazione web, non in termini di contenuto specifico, quello dipende caso per caso, ma come facciamo a organizzare le informazioni, come scegliamo il layout, come scegliamo i colori, quali sono dei principi della linea guida che possono aiutarci a fare un qualcosa che non sia terribile da vedere, da utilizzare, ma che appunto, oltre a essere tecnicamente corretta, sia anche vagamente utilizzabile. E per far questo affrontiamo due aree che sono collegate, anche se non sono la stessa identica cosa, una è l'architettura dell'informazione e l'altra è invece la progettazione visiva, visuale. Quindi, di nuovo, l'obiettivo di oggi è quello di introdurre i concetti principali dietro queste due aree, anche in maniera pratica, seppur questo pratico non vuol dire scrivere codice, e l'obiettivo qual è? L'obiettivo è creare queste applicazioni web, come vi dicevo, che non solo siano tecnicamente ok, ma siano anche efficaci, effettive. Quando l'aprite riuscite a trovare le informazioni che vi servono e non vi viene voglia di prendere e chiudere tutto e dire prossima volta, o cerco un'altra applicazione che faccia meglio queste stesse cose. Che, di nuovo, è un fattore da tenere in considerazione, seppur non un fattore è prettamente tecnico. Partiamo dalla prima cosa, che è l'architettura dell'informazione. Proviamo a prendere queste due parole separatamente. Che cos'è un'architettura? In generale. Pensatela nei vostri corsi di laurea, pensatela nel mondo esterno. Una disposizione di oggetti. Secondo dei criteri. Secondo dei criteri. Però, sono due oggetti. Li dispongo, secondo un criterio, per cui quello più piccolo sta qua e quello più grande sta là. Questa è un'architettura? Non proprio. No? Quindi, ha degli aspetti, ovviamente, no? Rivolti. Facciamo degli esempi di architetture, di cose... Un'architettura che avete sentito prima di oggi. Beh, la più classica dovrebbe venirvi in mente... Gli edifici. Gli edifici. L'architettura degli edifici. Altre architetture. Di rete. L'architettura di rete. Che è? Eh, eh. Il modo in cui muoviamo le informazioni. Cioè, l'organizzazione della struttura. L'organizzazione della struttura ha delle informazioni di rete specifiche, che ha a che fare, no? Con avere dei criteri per disporre le cose, in un certo senso. Altre architetture che vengono in mente? Penso che ve ne possa venire in mente almeno una ancora. Forse. L'architettura del calcolatore. L'architettura del calcolatore. Sì. Che anche lì ci sono dei componenti disposti in qualche modo, secondo dei principi, che sfruttano alcune relazioni, anche nell'architettura di rete, anche nell'architettura realista, architettura di edificio. Ci sono delle cose, dei componenti, degli oggetti disposti in certi modi, secondo certe regole, ma anche secondo certe relazioni tra gli oggetti. Ok. Architettura. Informazione. Cos'è un'informazione? Un insieme di dati da cui si fa un senso logico. Un insieme di dati. Usiamo questa come definizione che è abbastanza accurata. Siete troppo preparati? Io speravo di spenderci più tempo qua. Allora, che cos'è l'architettura dell'informazione? Mettiamoli insieme, queste due cose. La definizione, una delle definizioni è che è la progettazione strutturale di ambienti di informazione condivisi. Quindi, innanzitutto, parliamo di strutturale. Quindi ci sono delle regole, ci sono dei criteri, ci sono delle cose che si possono fare, non si possono fare, eccetera. Ha a che fare con l'informazione, come dice il nome, e questa informazione è in questi ambienti che devono essere condivisi. Quindi, uno dei criteri principali dell'architettura dell'informazione è che non è tanto un'informazione organizzata, diciamo così, nel vuoto. Per me, che me lo sono fatta in cinque minuti e capisco solo io e va bene così. Ma deve essere un'informazione che possa essere condivisa o condivisibile. Quindi, che vive in un contesto, in un momento specifico. E l'altro punto dice che l'informazione dell'architettura è la combinazione di quattro elementi all'interno di siti web e applicazioni software. L'architettura dell'informazione ha principalmente a che fare, come disciplina, con applicazioni software, siti web, qualcosa che abbia del contenuto dell'informazione da presentare. E questa combinazione è una combinazione di quattro sistemi. Sistemi di organizzazione, di etichette, di ricerca e di navigazione. Cos'è questo organizzazione? Che cos'è un'organizzazione? Perché parliamo di combinazione di un organization system, di un sistema organizzativo, di un sistema organizzato? di un'organizzazione. Cos'è un'organizzazione? In un sito web o in un'applicazione software? Una gerarchia. Una gerarchia. Come suddivido le varie informazioni. Come suddivido le varie informazioni. Come organizzo le varie informazioni, ma ovviamente un'organizzazione come organizzo le informazioni è un po' troppo facile come definizione. Una gerarchia è un esempio di un modo di organizzare, non è l'unico. Ok. Va beh, ricerca. Definiamo ricerca. La ricerca all'interno di un sito, non la ricerca su Google. Qual è lo scopo della ricerca? All'interno di un sito. Andate sul sito del Poli e scegliete deliberatamente di usare il campo cerca. Perché? Perché è più facile cercare l'intenzione. Anziché dover andare visitare tutto il sito. Perché è più facile cercare le informazioni tramite il cerchio invece che visitare il sito. Allora, perché non abbiamo solo una balla di ricerca? E nient'altro. Un bel sito alla Google dove c'è cerca e boh. Cosa ci serve? La navigazione e tutto il resto. Quindi, capisco dove vuoi arrivare, però proviamo a dirlo meglio. Non è filtrare le informazioni non è filtrare la ricerca. Non necessariamente. Interessa solo non si può sentire la situazione con le informazioni. Anche navigando puoi trovare tutte, alcune informazioni non tutte. Ma perché usi la ricerca e non clicchi sui menu? Perché non c'è? se accede direttamente a ciò che cerchi se cerchi bene. Cioè, se cerchi una parola, un qualcosa che poi ha subito una rilevanza alta in modo da apparire lì. Ci stiamo girando intorno, ma quasi. Per metterci meno tempo. Per metterci meno tempo fa il paio di più facile. L'idea è quella, però perché scegliete la barra di ricerca e non per metterci meno tempo? Perché è più facile. Ma qual è il problema per cui ci mettete meno tempo? Qual è allora il problema della navigazione per cui con la ricerca ci mettete potenzialmente meno tempo? Sì? E quindi? Ok, facciamo un esempio concreto, magari aiuta. Prendiamo il nostro sito preferito. e facciamo finta che questa immagine non ci sia. Facciamo finta che il sito sia così. Perché ovviamente non c'è informazione qui. Questo è una perza di tempo. Sì. Sì, è un percorso alternativo? Eh, però a volte non è così facile, siamo di nuovo al caso di prima. Ok, facciamo finta che io debba trovare le informazioni sulle elezioni del rettore del mandato 2024-2030. Avete questa pagina davanti. Cosa fate? cercate? O leggete la pagina però prima? Oppure? Cioè, se voi volete trovare le informazioni andate in cerca e scrivete elezioni del rettore in questo caso? No. Perché no? Eppure è più facile cercare, no? Perché no? O è più veloce? Perché no? Perché il contenuto che volete è in questo caso più facile trovarlo già lì perché è già lì l'informazione che volete. Allora, dicevo, ci siete quasi, no? Sul più facile e più veloce. Quando è che invece il cerca è potenzialmente più facile o più veloce? Quando l'informazione non è immediatamente accessibile o non sapete dove trovarla. Se voi voleste cercare le date delle discussioni della laurea magistrale in ingegneria informatica da qui potremmo fare un contest e vedere che ci mette meno tempo secondo me. Perché è una di quelle informazioni c'è da qualche parte c'è ma è una di quelle informazioni difficilissime da trovare. Anche col cerca però col cerca è un po' più facile in effetti perché ha negato in otto menu pagine diverse. Poi c'è a un certo punto. Ok. Cerca. Cos'era l'altro? Navigazione. Cos'era la navigazione? Beh, in parte l'abbiamo detto. lo scorrere da una pagina all'altra l'andare da una pagina all'altra sì e da questa come la possiamo chiamare questa roba qua? La barra di navigazione. Ok. E la navigazione ci permette di andare da dalla home page a corsi di laurea magistrale per esempio. Giusto? E questo è un esempio di navigazione ma la navigazione se vogliamo dargli una definizione più generica più ampia no questa non è la navigazione suddivide i macro gruppi questa è l'organizzazione qualcuno ha deciso che sotto la voce didattica ci vogliono queste cose qui con qualche criterio che con qualche criterio non fatemi dire oltre però la navigazione è sicuramente passare da una pagina all'altra da qui andare a corsi di laurea magistrale ma non solo e anche cosa vuol dire la logica questo ha a che fare con l'organizzazione la logica per quale motivo sotto didattica hanno messo studenti internazionali l'hanno messo sotto non so Ateneo oppure servizi vita al Politecnico perché è qui e non è sotto Ateneo per esempio c'è una scelta c'è una logica ma fa parte dell'organizzazione quindi passare da una pagina all'altra è giusto è un pezzo della storia e poi rendere tangibile l'organizzazione no ci stiamo allontanando rendere visibile l'organizzazione se io volessi senza usare il cerca andare a vedere la scheda di insegnamento di questo corso cosa dovrei fare? vabbè non è che dobbiamo farlo però in teoria cosa dovrei fare? navigare nei menu e quindi? la navigazione serve a passare e l'effetto netto è passare da una pagina all'altra ma è il percorso per raggiungere da un punto un qualunque altro punto del sito potenzialmente in maniera strutturata con delle logiche dietro con dell'organizzazione dietro e l'effetto netto il passo piccolo è passare da una pagina all'altra però se devo raggiungere la scheda dell'insegnamento di questo corso passerò da una pagina a un'altra n volte dove spero n sia un numero piccolo cioè andrò su didattica andrò su corsi di laurea aspetto che si carichi e poi andrò a prendere un corso di laurea qualunque in ingegneria però prendiamo informatica e poi vado in piano di studi e poi clicco su piano di studi completo che mi apre un altro tab e poi faccio offerta dell'anno accademico e poi apro percorso questo non è già più una navigazione e poi vado in fondo nei crediti liberi e poi cerco nel tab perché non lo vedo ecco qua perché ovviamente non sono ordinati alfabeticamente e poi clicco qui e se sono fortunato arrivo alla scheda del corso ok quindi tutto questo può parte la navigazione come arrivo qui a partire dall'home page ma anche come arrivo qui a partire da il corso di laurea magistrale in ingegneria fisica che ovviamente non ha questo corso e richiederà un percorso di navigazione per arrivare qua ok quindi l'informazione dell'architettura si occupa di tutte queste cose cioè perché abbiamo messo la vita e i servizi dentro la didattica perché c'è una categoria didattica perché c'è una ricerca e quando è più facile trovare le informazioni no perché nell'home page ci sono certe informazioni e altre informazioni sono invece più difficili da trovare qual è l'organizzazione di tutto questo qual è la navigazione e l'obiettivo della disciplina perché è una disciplina ci sono persone che ci lavorano ci sono architetti dell'informazione una figura professionale che fanno questo di mestiere aiutano altri o creano per conto loro le aiutano altri appunto creano per siti propri o applicazioni proprie come strutturare l'informazione in maniera che sia facilmente trovabile e comprensibile perché non serve solo trovarla l'informazione ma serve anche che l'informazione sia comprensibile cosa vuol dire che serve anche che l'informazione sia comprensibile abbiamo trovato la scheda dell'insegnamento che ho chiuso apriamo un'altra un corso che vi piace elettromagnetismo e elettorio dei circuiti secondo me vi piace tanto vero? ok che è elettrotecnica e fisica 2 essenzialmente fantastico ok voi se leggete questo l'abbiamo trovata quindi se un obiettivo dell'architettura dell'informazione è trovare le informazioni l'abbiamo trovata facilmente un click eccetera l'altro obiettivo è renderlo comprensibile allora chiediamoci è tutto questo comprensibile per voi? c'è qualche in questo pezzo leggiamo in queste quattro righe di più questi concetti fondamentali è tutto questo comprensibile non dobbiamo fare un esame no? ma se lo leggete capite più o meno di cosa si parla? sì? bene senza andare nello specifico cos'è un credito? è una moneta di scambio? che cos'è un credito? è il numero di ore è il numero di ore associato a ogni materia questo è un corso da 12 crediti e quindi comporterà quante ore in aula? un corso da 12 crediti? no se il corso era 12 crediti? 120 e quante ore di studio individuale? ogni credito ha? al Politecnico di Torino? 15 ore per ogni credito senza fare il conto di 15 per 12 perché un credito sono in totale quante ore? 25 ok questa facciamo finta che questa sia conoscenza nota a tutti voi un credito sono 25 ore il Politecnico di Torino decide che 25 ore sono 10 ore di didattica frontale e 15 ore di studio individuale questo è come il Politecnico divide un credito un credito è definito a livello europeo come 25 ore poi l'Università del Piemonte Orientale decide che non sono 10 ore in aula ma sono 8 e quindi non sono 15 ore di studio individuale ma sono 17 ed è totalmente lecito e sta all'Università quindi vuol dire che le ore in aula sono meno ma il lavoro da fare per conto proprio sarà di più in quell'Università ora facciamo la stessa domanda a una classe delle scuole medie che cos'è un credito qual è la risposta che otterriremo questa o qualcos'altro secondo voi qualcos'altro è più che ragionevole che un 14enne 15enne non abbia la minima idea di che cosa sia o meno anche non abbia la minima idea di che cosa sia due crediti senza andare a leggere tensione, corrente, potenza Kirchhoff eccetera solo rimanendo sui crediti quindi questa informazione è comprensibile per voi possiamo dire di sì sarebbe comprensibile per un ragazzino delle medie probabilmente no senza una spiegazione che due crediti vuol dire 20 ore in aula se qui ci fosse scritto 20 ore sarebbe comprensibile sì perché finché uno ha il concetto di ora riesce a capire cosa si vuol dire quindi l'architettura dell'informazione non è solo come si organizzano le informazioni per la navigazione per la ricerca eccetera ma anche come fare far sì che queste informazioni siano comprensibili rispetto alle persone che voi volete raggiungere col vostro sito applicazione quindi questo è un sito universitario che si rivolge principalmente a universitari magari a ragazzi delle superiori quindi quel due crediti può essere non chiaro cosa sia uno magari guarda voglio iscrivermi guardiamo cos'è questo corso mi dice due crediti e dico che cos'è due crediti ma anche senza arrivare qui basta andare già qua crediti otto che cos'è crediti otto no quindi per voi è comprensibile per un ragazzo dei superiori magari gli serve una leggenda o un qualcosa se andiamo un ragazzo delle medie che arriva qui o una ragazza delle medie che arriva qui beh probabilmente non ci arriva qui perché non gli interessa andare a vedere i corsi al primo anno di ingegneria informatica al Politecnico perché non è o se gli interessa ammettiamo quando abbiamo costruito il sito che è una mancanza che abbiamo perché non è la nostra popolazione di riferimento non sono le persone a cui il sito si rivolge principalmente quindi di per sé la disciplina si concentra su rendere l'informazione trovabile l'abbiamo trovata rapidamente ma anche capibile rispetto alle persone che vogliamo raggiungere e come dicevate correttamente l'informazione è un insieme di dati ma non sono dati no e allora cosa sono i dati cos'è un dato c'è scritto qui ma che cos'è un dato facciamo un esempio di dato l'altezza di una persona l'altezza del monte Everest quanti crediti ci sono in un corso un dato è un qualcosa che data una domanda molto specifica ottiene una risposta molto specifica quantitativa o qualitativa quindi l'architettura dell'informazione non si rapporta con la gestione dei dati questo ha a che fare con le basi dati ha a che fare con altri meccanismi ma non ha neanche a che fare con la gestione della conoscenza dove qui c'è una definizione molto soft di conoscenza che dice che la conoscenza sono le cose nella testa delle persone cioè strumenti processi e incentivi per poi condividere quella conoscenza e la conoscenza non è solo il dato magari è il dato più l'aneddoto magari è come sono arrivato a capire quel dato magari è come mai mi ricordo quello specifico dato eccetera quindi c'è di più rispetto al semplice numero di metri legato a un qualcosa e l'informazione come diceva prima il vostro collega è un qualcosa che sta nel mezzo non è un singolo dato non è neanche la conoscenza ma è un qualcosa che ovviamente avrà a che fare con la conoscenza ovviamente avrà a che fare con i dati ma sono mix a volte delle due cose che noi andiamo a esporre in qualche modo attraverso un sito attraverso un documento attraverso la pagina web attraverso il menu di navigazione attraverso delle immagini eccetera quindi dei concetti informativi più che specifici dati o specifici conoscenze in senso ampio e l'architettura dell'informazione ha questi tre elementi il primo è quello che abbiamo appena discusso quando abbiamo fatto l'esempio dello studente delle medie che legge la guida del piano di studi di ingegneria informatica ci sono cose che non sa no? e allora la prima cosa è che l'architettura dell'informazione se uno vuole strutturare bene un sito un'applicazione web un'applicazione software in generale deve chiedersi chi sono le persone a cui ci stiamo rivolgendo cosa sanno quali sono le conoscenze quali sono le terminologie che usano cosa dovete fornirgli voi allora facciamo un altro esempio se dovete fare un blog sull'imparare a programmare in python e lo fate per studenti universitari come voi del Politecnico di Ingegneria potete usare termini come variabile ciclo infinito oppure no sì perché siete titubanti mi sembra che non vi chiedo cosa sono se lo stesso sito sempre il blog per imparare a programmare in python lo faceste per di nuovo i ragazzini delle medie di cui prima potreste partire con definisci una variabile oppure attenzione questo può generare un ciclo infinito oppure no no perché no perché non hanno la minima idea di che cosa sia magari sanno cosa è una variabile ma magari non hanno la minima idea di cosa sia un ciclo e ben che meno un ciclo infinito quindi se dovete raccontare quei dati quei fatti una variabile in python si crea così un ciclo infinito si scatena attenzione che questo può scatenare un ciclo infinito se dimenticate quest'altro sono fatti sono dati però vanno personalizzati vanno comunicati in un certo modo in base alle persone con cui a cui vi rivolgete nel creare un sito web un'applicazione web e quindi non solo la terminologia ma anche poi il contenuto come comunichereste come definireste una variabile a me o tra di voi datemi la definizione di variabile e come la presenteresti in maniera testuale in maniera immaginatevi fare questo blog per i vostri colleghi di un altro corso ma sempre qui al Politecnico sempre terzo anno definiamo una variabile la variabile è un contenitore che può contenere un certo tipo di dato e può essere modificato perché è variabile e lo scrivereste in testo così per esempio sì no però non no ora immaginate di voler dare la stessa definizione ma a un dodicenne scrivereste lo scrivereste basta o magari il contenuto sarebbe diverso magari delle immagini in cui vedere una scatola e un oggetto che viene messo nella scatola e dici in quella scatola è la variabile e l'oggetto che è dentro la scatola in quel momento è contenuto nella variabile e quando lo tolgo e ne metto un altro la variabile ha un qualcos'altro al suo interno o un immagine dei video o un contenuto multimediale diverso rispetto a quello che di nuovo avreste quindi personalizzato in base all'utente ma anche personalizzato in base al concetto alle cose che volete comunicare e al tempo che avete e al tipo del sito eccetera e poi c'è il contesto ora nel nostro esempio noi non parliamo di business o contesti organizzativi ovviamente però qual è può essere il contesto per esempio diverso tra spiegare come si usa una variabile che cos'è una variabile a uno studente universitario del poli e ha il tipico prototipale ragazzino delle medie di cui prima quello è il contenuto quanto entri in dettaglio il contesto è un blog quindi non è un corso quindi vado lì sul sito lo leggo è un blog di imparare a programmare python per preadolescenti facciamo finta se è questo un blog in cui scrivete dei post per imparare a programmare dedicato per adolescenti quindi con i video con le immagini con la terminologia giusta quale contesto state quali assunzioni stiamo facendo che lo visite per piacere e già assumiamo che lo visiti che assunzioni stiamo facendo per la creazione di questo blog ok questa è un'assunzione per cui noi sappiamo assumiamo che culturalmente dove nel mondo in Italia a Torino i preadolescenti non lo sappiano in Italia quindi è già un'assunzione che stiamo facendo l'altra assunzione di contesto che stiamo facendo nel creare un blog la lingua che scegliamo se scegliamo l'italiano ci rivolgeremo escluderemo tutte le persone che non parlano l'italiano anche in Italia tutti i preadolescenti che non leggono o parlano correttamente l'italiano che altra assunzione stiamo facendo che ci siano adolescenti no beh che ci siano adolescenti no vabbè facciamo finta che quelli ce la sappiamo ma che altra assunzione stiamo facendo più meno di alto livello diciamo così che abbiano un computer e accesso alla tecnologia perché è un blog che fa il paio quando ci siano adolescenti interessati ma ipotizziamo che ce ne sia almeno uno per cui valga la pena farlo che abbiano accesso alla tecnologia quindi è un qualcosa che centra molto col contesto specifico in cui siamo se ne volessimo fornire lo stesso contenuto alle stesse persone ma da un'altra parte del mondo potremmo dover modificare qualcosa in base al contesto magari non metteremmo il video in 4k che richiede la fibra o una DSL molto veloce per essere visto ma magari avremo delle immagini delle breve animazioni se la connettività internet fosse più limitata in altre parti del mondo magari non sarebbe in italiano sarebbe in un'altra lingua questo è un qualcosa che riguarda il contesto specifico che in cui viviamo e tutto questo capisco che sia un po' alto livello e un po' ma cosa vuol dire ma sono cose di cui noi partiamo da bravi ingegneri anche se voi ancora ufficialmente non lo siete partiamo e andiamo diritti tipo ah si facciamo il sito web facciamo l'applicazione facciamo questo risolviamo un problema senza aver capito se magari il problema c'è davvero e probabilmente non c'è però noi lo risolviamo lo stesso quindi queste sono cose per quello che abbiamo questa lezione comunque non possiamo dedicarci tutto un corso sarebbe si chiamerebbe diversamente però un corso una lezione in cui proviamo a pensare al fatto che ci sia qualcuno che utilizza il vostro sito e che ci sia del contenuto che va fatto in base a questo qualcuno e che vive in un certo determinato contesto è un qualcosa non tante fine del corso e dell'esame dove vi diremo noi l'applicazione deve far questo ciao ma se dovete fare un sito un'applicazione web per conto vostro per rilasciarla per darla a qualcuno all'interno di un'azienda dove queste cose invece contano dove gli utenti magari saranno i clienti e allora bisogna tenere in considerazione chi sono gli utenti eccetera e un altro fattore che ci aiuta se vogliamo è e tenere in mente che noi capiamo le cose spesso quando sono messe in relazione a qualcos'altro e usiamo delle strutture che esistono strutture concettuali che esistono se voi aprite tre siti di università italiane ci sono delle cose simili tra i tre siti ci sono delle terminologie ovviamente simili ma ci sono anche degli aspetti visuali tecnologici simili tra questi siti e questo perché? perché ognuno non cerca di fare una cosa totalmente diversa dall'altro ma piace questa similitudine magari ci sono differenze ma alcune cose sono simili o anche se andate sul sito di una banca tre banche diverse anche lì ci saranno delle similitudini perché sono positive queste similitudini perché l'utente quando entra sa già cosa aspettarsi almeno l'incirca come risposto il sito dove trovare le informazioni perché la familiarità in questo caso come dicevi tu ci aiuta a trovare e capire le informazioni un po' meglio perché siamo abituati a vedere le cose in un certo modo ad usarle in un certo modo e quindi quando ci si presenta una nuova cosa un nuovo sito qualcosa se troviamo elementi familiari siamo più propensi a capirli a trovarli facilmente non mi sembra di averlo fatto in questo corso questo esempio ma il quando andate su un sito o un'applicazione mobile e c'è quel menu quel bottone con tre righette orizzontali sì presente cos'è sapete come si chiama l'hamburger meno sì il menu hamburger due pezzi di pane e la carne in mezzo che è terribile per tanti punti di vista da un punto di vista di questi punti di vista che stiamo trattando oggi ma se voi lo vedete sapete che cosa succede cliccando su quel bottone sì cosa succede probabilmente compare il menu e come lo sapete esperienza perché familiarità l'avete visto così tante volte che ormai sapete che cliccando lì e se cliccando lì non comparisse il menu sarebbe strano questo sito cosa fa o questa applicazione cosa fa questa è familiarità che standard chiamiamoli così che le siti le applicazioni si portano per fornire un linguaggio comune in modo che le persone siano meno disorientate e trovino più facilmente le informazioni e le capiscano e le possono usare e rimangano sul sito e non lo chiudono e vadano da un'altra parte che poi è un po' anche l'obiettivo di che crea un sito un'applicazione che le persone ci rimangano non che dicano no non si trova niente vado a cercarla da un'altra parte e la linea base se vogliamo un principio che potrebbe guidare un pochino riassumere in maniera anche imprecisa questo che abbiamo detto finora è questo non farmi pensare cioè quando vado su un sito su un'applicazione qualunque cosa sia se devo pensare troppo su come faccio a raggiungere una certa cosa vuol dire che probabilmente c'è qualcosa che non va in quel sito e questo non farmi pensare questa è una pagina tratta da questo libro che c'è anche in italiano che è concentrata molto sull'asibilità del del web e del mobile che si chiama Don't Make Me Think credo anche in italiano non so se l'hanno tradotto il titolo e e questa che è un libro corto in realtà con molte immagini tipo questo e quindi fa un sacco di esempi per cui c'è un sito e dice ok questo Steve Krug è un esperto di usabilità che fa consulenza per siti e applicazioni mobile specificatamente che dice ok guardo quest'area questa è molto densa da dove inizio perché lo chiamano così questa cosa qualunque cosa sia che non si legge questa qui è un qualcosa che posso cliccare oppure no e questa è navigazione perché qui a sinistra e non è sopra come mi aspetterei in certi siti e perché c'è questo qualunque cosa sia in questa posizione qua questi due link siamo in realtà identici perché sono due volte non bastava uno solo dato che sono anche molto vicini l'uno all'altro queste sono cose che noi probabilmente facciamo in millisecondi non è che ci passiamo un minuto a riflettere su dove cliccare e poi proviamo e poi magari torniamo indietro ma sono tutti segni che probabilmente c'è un qualcosa da ripensare in questo sito l'organizzazione delle informazioni l'architettura dell'informazione non è ottima quindi qui è troppo denso perché è così denso c'è troppa informazione bisognava dividerla meglio il nome che hanno scelto qui è confusionario va bene perché l'hanno chiamato così questo è cliccabile o non è cliccabile e se è cliccabile perché non è più evidente che sia un bottone e se non lo è perché mi sembra un link in parte o perché vorrei cliccarci quindi è un qualcosa che poi nel progettare o riprogettare questa pagina non a livello tecnico perché questo è testo e contenuto ma a livello di come dispongo le informazioni e perché le metto in quel modo e perché le chiamo in quel modo è quello che in un certo senso si potrebbe dire se non è usabile in realtà non funziona davvero quindi tecnicamente funziona ogni link funziona ma se poi non si riesce a utilizzare non è davvero funzionante è tecnicamente funzionante ma non praticamente quindi questo se volete dicevo è un libricino che copre questo con tanti tanti esempi soprattutto sul web ma anche sul mobile se volete dargli un'occhiata esisterà tanti anni sono certo che si possa trovare in qualche modo se volete uno strumento che viene utilizzato nel nel mondo dell'architettura dell'informazione per quanto riguarda la navigazione che evidenzia che la navigazione non è solo un passare da una pagina all'altra ma è un percorso sono le mappe dei siti visto che parliamo di applicazioni web le mappe dei siti mostrano le relazioni tra elementi di informazione e possono essere utilizzati per raccontare l'organizzazione la navigazione l'etichettatura di sistemi allora questa è una mappa di un sito di che cosa tratta questo sito qual è l'argomento di questo sito qui non c'è contenuto no? quindi non possiamo sapere il contenuto non sappiamo sapere il contesto eccetera però possiamo capire quali sono le relazioni tra gli elementi informativi di che cosa tratta questo sito secondo voi? di vacanze di tour perché? perché di tour e non di mensa o di cibo o di dai titoli delle pagine perché c'è moltiplici pagine dove c'è scritto tour ok allora come è fatta questa mappa di navigazione? cos'è la index? la home page la pagina principale da dove va? dove posso andare dalla index? ho due strade quali sono queste due strade? la ricerca la ricerca la ricerca la ricerca il generale la forza generale e il produttivo questo che cos'è quindi? tra le due? il campo cerchi il campo cerca e questo? la pagina interduttiva questa non è la pagina interduttiva sì questa è la pagina interduttiva questa è una freccia che porta a in certo senso tutto questo blocchettone di pagine quindi potremmo immaginare che questa sia una sorta di navigazione di barra di navigazione in qualche modo organizzata non lo sappiamo non lo vediamo che porti a queste pagine che sono le pagine quindi dalla home page è possibile andare alle singole pagine o è possibile andare ai risultati della ricerca benissimo da dove possiamo andare dalle singole pagine? per esempio da family tour page dove possiamo andare da qua? dove possiamo andare? di nuovo all'home page quindi indietro se ci siamo arrivati dalla index possiamo andare all'home page che è una delle cose che quando uno fa un sito un'applicazione un po' complessa il ritornare indietro o ritornare alla pagina principale è una delle prime cose che ci si dimentica e poi da dove posso andare? da qui? posso andare se seguiamo la freccia sia a queste information page da qua sia ai risultati della ricerca perché ci sarà un campo ricerca e quindi potrò andare quindi da questa pagina posso andare a una pagina di informazioni generica di dettaglio oppure ai risultati della ricerca perfetto dai risultati della ricerca dove posso andare? o alle pagine come prima oppure a se stessa perché a se stessa? sì no certo perché c'è questo loop ma cosa vuol dire in pratica? perché magari non c'è il risultato e rimani sulla stessa pagina cioè devi fare un'altra ricerca devo fare un'altra ricerca perché non trovo quello che voglio oppure anche un'altra cosa quindi cerco perché non ho un solo risultato da me perché non ho un solo risultato e quindi? devo rimanere sulla stessa pagina per scegliere beh però se devo rimanere non devo ritornarci no? questa è la navigazione non devo ritornare sulla pagina quindi perché non ho trovato quello che cercavo quindi raffino la ricerca la cambio quindi sto ancora qui oppure? è cambiare la ricerca anche il filtro qual è l'altro caso per cui io posso rimanere nei risultati della ricerca però non ci cambio la ricerca se non ho trovato nulla no? se ci sono tanti risultati passo a un'altra pagina allora rimango sui risultati perché ci sono più pagine dei risultati no? quindi queste mappe mostrano come partendo da un punto qualsiasi di un sito in questo caso di un sito posso raggiungere un qualunque altro pagina del sito e per cui se poi ci accorgiamo che una pagina non ha un punto d'ingresso non ha un punto d'uscita come ci aspettiamo come dovremmo allora vuol dire che abbiamo trovato un problema all'interno del sito o se è troppo complicato arrivare a una certa pagina perché ci sono molti passaggi da fare allora abbiamo trovato probabilmente un problema nel sito da sistemare a livello di navigazione quindi queste mappe del sito sono sia strumenti comunicativi per cui io lo do a uno sviluppatore web e gli dico fammi un sito che abbia questa navigazione e lui o lei può replicare questo con i link appropriati e decidere dov'è la ricerca e decidere che tutti questi sono una barra di navigazione fare decisione dal suo punto di vista ma anche dall'altra parte usarlo prendo un sito attuale prendo il sito del Politecnico e cerco di costruirmi la mappa di navigazione del sito e mi accorgo che se per trovare un'informazione ci metto 27 passaggi e quella è un'informazione importante magari c'è un problema e quindi bisogna riorganizzare qualcosa in modo che questi 27 passaggi diventino 3 quindi queste mappe sono sia prescrittive che anche possono essere utilizzate per costruire e progettare e sono uno degli elementi che si usano nella architettura dell'informazione quindi l'architettura dell'informazione è questo è capire dato un contenuto dato delle informazioni come le posso strutturare da un punto di vista logico quindi che menu metto devo fare un sito di un'università quali sono le voci di menu che metto è una scelta che non è una scelta tecnica non è neanche una scelta estetica ma è una scelta organizzativa perché questo lo chiamo Ateneo perché questo lo chiamo didattica perché questo lo chiamo ricerca e poi quando vado dentro una categoria che cosa ci metto in quella categoria e come chiamo le cose che ci sono in quella categoria e di nuovo una volta che clicco da qualche parte quali sono le sottocategorie che vedo perché sotto servizi ho messo queste e non ho messo invece le cose per il career service che come dice il nome sono sempre service perché una in italiano e l'altra in inglese che scelta ho fatto per farlo logica o non logica condivisibile o non condivisibile ma la creatura dell'informazione è farsi queste domande decidere alla fine che dentro servizi e vita al politecnico che chiamo esattamente così e non chiamo servizi del politecnico per esempio o servizi e vita o esperienze al politecnico o esperienze in ateneo o qualunque altro titolo vado a mettere esattamente queste cose e all'interno di queste cose organizzo le informazioni esattamente in quel modo e tutto il contenuto è ovviamente fruibile e comprensibile e trovabile per quelle persone di cui vogliamo orientarci quindi questo per esempio sarà rivolto principalmente a chi questo servizio vita al politecnico a chi agli studenti e questo a chi sarà rivolto o a chi non è rivolto probabilmente maggiormente sarà rivolto alle aziende sarà rivolto agli studenti forse no no trasferimento tecnologico i brevetti eccetera ai ricercatori anche no quindi qual è la proprietà intellettuale come si fa un brevetto eccetera non è un qualcosa che uno studente di sua spontanea volontà va a vedere quindi queste pagine sono più rivolte ad altre persone ad altri utenti che non sono gli studenti e anche i rapporti con l'azienda con l'azienda ovviamente e fatemi prendere un qualcosa che so dov'è va bene cinema è uguale questi a chi sono rivolti a chi vuole scrivere la magistrale quindi è rivolto questa pagina a uno studente alla laurea magistrale forse no a meno che non voglia cambiare l'orientamento però o cambiare il corso di laurea riscriversi però queste pagine dovrebbero avere un contenuto e un linguaggio e una modalità adatto a chi vuole scrivere la magistrale perché questo in una laurea magistrale se andiamo in quell'equivalente che non credo ci sia perché non credo che l'abbiamo fatto esatto della triennale non c'è una pagina open day però per esempio ci sono informazioni per chi questo c'è qualcun ingegnere del cinema qui ok quindi la maggior parte no ma questo c'è anche informatica quindi c'è in tutti i siti del collegio di informatica meccatronica e cinema questa infografica qua per chi è? per chi è già scritto o per chi deve scriversi? forse per chi deve scriversi no? aspetta che ce n'è una migliore questo anche serve più a voi o a chi sei già iscritto o chi deve scriversi perché in teoria voi più o meno dovete sapere che cosa studiereste dal piano di studi perché avete il carico didattico il piano carriera eccetera 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 invece questo è un colpo d'occhio su come sono distribuite le materie vedete senza parlare di crediti perché uno strumento dei superiori tipicamente non sa cos'è un credito allora qua si dice in percentuale il 30 qualcosa per cento sono materie di base nei tre anni della laurea in ingegneria del cinema e poi si c'è il dettaglio sul piano di studi eccetera eccetera però sono informazioni quindi in un unico sito ci sono pagine rivolte a persone diverse quindi l'architettura di informazione decide queste cose principalmente quindi come organizzare le informazioni in modo che siano di nuovo trovabili e comprensibili ok domande o dubbi fin qui direi che dovrebbe essere abbastanza chiaro come lo fa lo fa attraverso le mappe dei siti ma lo fa anche attraverso esercizi tipo il card sorting quindi ci sono gli elementi che uno vuole prendere nel sito del Politecnico ho le cose i servizi del Politecnico ho la didattica del Politecnico i corsi di laurea del Politecnico i corsi gli insegnamenti del Politecnico e devo decidere come metterli insieme sono sotto una voce di menu sono sotto tante voci di menu sono in tre livelli di menu sono a primo livello quella è una decisione che è da fare pensando a contesto contenuto e utenti che abbiamo davanti ok questa è l'architettura dell'informazione una cosa correlata e un po' più applicabile anche per noi in quanto i nostri siti e le nostre applicazioni saranno o come quella che stiamo facendo in aula quindi mangiato che è tutto sommato semplice o quella del laboratorio che di nuovo è abbastanza semplice non è così ricca di informazioni come il sito del Politecnico per esempio e invece la progettazione visuale allora qual è l'obiettivo della progettazione visuale iniziamo a chiarire che non è quello di rendere le cose esteticamente bello quello se viene meglio ma non è l'obiettivo gli obiettivi sono questi tre sono quello di fornire struttura importanza e relazioni supportando l'architettura dell'informazione ma anche fornire orientamento fornire familiarità fornire punti di partenza di arrivo direzione su come comportarsi e anche esprimere significato e stile alla vostra specifica applicazione al vostro specifico sito per esempio sia a livello cosciente che non cosciente di nuovo non è l'obiettivo rendere il tutto esteticamente bello non è necessario essere artisti possono aiutare gli skill artistici ma non sono né necessari né sufficienti perché questa è progettazione visuale che è estremamente pratica da quel punto di vista e soprattutto imparare a progettare e a progettare qui è scritto design ma in italiano design possiamo anche trattarlo come progettazione non solo come disegno quindi gli skill che sono necessari per la progettazione grafica o la progettazione di un sito di un'applicazione possono anche richiedere anni per arrivare a un certo livello di accuratezza però ci sono alcuni principi alcune linee guida che possono che possiamo tenere in mente e possiamo aiutarci a andare in una direzione rispetto a un'altra e partiamo da questo che è un esempio opinione a pelle di che cosa parla questo testo cosa parla quali sono le parole chiave cosa vi è rimasto in mente avendolo visto 5 secondi rifacciamolo cosa vi è rimasto in mente a prima vista che sono quindi non sono rimasti in mente le parole c'è del testo tanto questo spiega quali sono alcune regole base della progettazione visuale e quali sono gli elementi principali della progettazione visuale quindi qui ci rimane poco in mente così ci piace di più è lo stesso identico testo di prima non c'è nessunissimo cambiamento nel contenuto ma ci sono degli spazi che ci fanno dire per esempio che ci sono quattro frasi separate quindi gli spazi sono un elemento base della progettazione visuale e bisogna usarli quando abbiamo del testo o degli elementi in generale da evitare un qualcosa del genere ci piace di più così è sempre lo stesso testo di prima lo stesso contenuto di prima di che cosa parla questo testo a colpo d'occhio cosa sono le prime cose che vedete i titoli testo layout e colori che c'erano anche prima però prima testo che è qui e qui layout e colori sono esattamente le stesse informazioni ma presentate organizzate in maniera diversa e a colpo d'occhio potete dire mi interessa o non mi interessa voglio leggere di più o voglio leggere di meno questa è gerarchia lo diceva prima come organizzo le cose in maniera gerarchica c'è un titolo e quindi il titolo è più grosso ed è in in grassetto ci sono ancora gli spazi che separano le frasi ma adesso a colpo d'occhio potete dire di che cosa parla questo documento parla di testo layout e colori e se non vi interessa il layout e i colori potete leggere quello che c'è sotto il testo e se non vi interessa niente potete proseguire e andare avanti ma qui invece non ne avete idea finché non lo leggete tutto e con la relativa calma perché colpo d'occhio non vi rimane niente non siete guidati verso i contenuti se questo fosse su una pagina web dovreste leggerlo riga per riga prima di dire mi interessa o non mi interessa se questo fosse su una pagina web lo potreste dire immediatamente mi interessa o non mi interessa ed è solo una questione di mettere certe parole più grandi come titolo e aggiungere dello spazio questo meglio o peggio cosa è cambiato rispetto a questo c'è un elenco puntato e poi sì c'è un elenco puntato ovviamente è più schematico non ha basic visual design involves gracefully using wet space help separate e più dritto appunto basic visual design titolo della slide wet space help separate font size and style bla 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 di nuovo quali sono gli elementi principali del testo qui? quali sono gli elementi principali del testo qui? le tre caratteristiche principali? spazi font di nuovo colpo d'occhio con un allineamento diverso e uno stile diverso fornite le informazioni che esattamente quelle di prima sono solo fatte in maniera diversa quindi questi tre elementi testo layout e colori e per quanto riguarda il testo allineamento gerarchia e spazi e poi anche font ovviamente per mostrare le differenze e e anche per l'allineamento anche per aiutare a leggere più rapidamente a concentrarsi solo sulle cose che vogliamo ottenere e per cui decidere se siamo se possiamo continuare a leggere oppure no sono quelle che ci aiutano come basi del visual design ok e gli ingredienti sono questi tre che abbiamo visto dove in aggiunta al testo alla tipografia quindi spazi colori spazi font e alignment per il layout ritroviamo di nuovo esattamente come in bootstrap le griglie perché vedremo che la maggior parte se non tutte le applicazioni web sono strutturate comunque a griglie e i colori per cui dobbiamo avere qualche indicazione su come usare i colori e finiamo di parlare dei del testo poi facciamo una pausa e il testo il testo la dimensione e la spaziatura definisce questa gerarchia come abbiamo detto prima e la gerarchia visuale dovrebbe anche essere relazionata con l'importanza relativa del contenuto che stiamo visualizzando allora qua ci sono due esempi uno c'è una X rossa e uno c'è una spunta verde perché secondo voi secondo chi ha fatto questo questo questa immagine quello con la spunta verde è meglio e di nuovo le stesse identiche informazioni qualcuno deve pagare paga Mario Rossi paga con una Mastercard 20 euro 0,2 al comune di Gallarate sono le stesse identiche informazioni perché quella con la spunta verde è meglio? perché non capisce ancora secondo te con la pagina non prendi il pagamento è più grande quindi si riesce a capire si riesce a capire la gerarchia qual è qual è l'elemento principale cosa mi serve questa pagina confermare il pagamento di qui sembra che la pagina serva al comune di Gallarate o a Mario Rossi dipende quale dei due vedete prima confermi addirittura più piccolo del nome che altro? quello sicuramente è cambiato cos'è che è anche cambiato? il codice colori il codice colori perché? perché il tema il blu veniva usato per cose diverse quindi sono quelle cose fondamentali cioè quello risalta di più il blu veniva usato è lo stesso colore di conferma e paga che è l'azione principale qui invece oltre a essere più piccolo e e anche del colore in realtà dell'azione secondaria che annulla il pagamento ma qui non c'è un'azione cos'altro? la cifra finale è in grassetto questa qua giusto? poi il fondo è più piccolo tutto il fondo è più piccolo perché tranne il totale che rimane uguale e guardate anche questa nulla questa nulla di qua è praticamente quasi in mezzo al testo è quasi attaccato a residenza tra residenze comune di Gallarate invece qui è spaziato questa nulla qui non si capisce bene a cosa si riferisca qui probabilmente è una scorciatoia per questa nulla il pagamento che tra l'altro è grigio esattamente come il bottone annulla il pagamento invece qui era blu come il bottone conferma e paga quindi colori ma soprattutto qui quello che fa la differenza al netto del colore che è veramente poco perché il cambiamento è qui e qui i colori sono sempre gli stessi blu e il grigio o quello che è e cambia la dimensione dei font la gerarchia il fatto che il titolo sia diventato più grosso e il comune più piccolo ecc di nuovo stesse informazioni una è più chiara l'altra è meno chiara e qual è il vantaggio sul fatto che questa sia più chiara ai fini pratici è più veloce meno gente sbaglierà e cosa succede se uno sbaglia il pagamento al comune di Gallarate che? no però facciamo finta che questa sia 20 euro di multa o di qualunque roba sia e tu devi pagarla se no poi ne paghi 40 quindi io lo faccio ma sbaglio sbaglio perché l'interfaccia non mi aiuta a farlo giusto cosa succede dopo? cosa fa questa persona? ci riprova ok quindi oppure cosa fa anche? non la paga ma poi si prende la multa e quindi se si prende la multa poi non è contento e quindi se non è contento cosa fa? va nell'ufficio a farlo di persona quindi abbiamo creato un bellissimo sistema informativo che nessuno usa perché tutti vanno a fare la coda nell'ufficio e quindi l'obiettivo stesso del sistema informativo che era evitare la coda per colpa di come è stato fatto in realtà non riduce la coda non riduce problemi oppure telefona oppure apre un ticket e quindi in realtà un problema relativamente facile magari che riduce riduce gli errori del 10% riduce del 10% le chiamate al centralino riduce del 10% le code in comune per pagare un qualcosa che si poteva fare invece più comodamente online simile a prima perché uno è meglio dell'altro? questa è una casa in vendita immaginate che dovete comprare casa e che abbiate questi giusti 750.000 dollari in tasca così da spendere per questa casettina da del 2012 con tre camere da letto due bagni almeno una cucina e almeno un soggiorno più il giardino direi se è quella della foto più due piani di casa più un garage perché volete che una casa così non abbia anche un garage ecco perché quella verde è meglio? quella con la spunta verde è meglio risalta subito a quello che interessa all'utente risalta subito a quello che interessa all'utente che è? il prezzo come la casa il budget scusa il prezzo sì e poi? come la casa beh come la casa si vede anche qui no? cioè come la casa strutturata ma anche qui ci sono quelle informazioni eh? sono scritte sono di nuovo stesse informazioni solo evidenziate in maniera diversa se io cerco ho un milione di dollari in banca facciamo finta e devo comprare una casa dovunque sia questa casa non in Italia sicuramente ovviamente essendo in dollari il prezzo è sicuramente un fattore ma l'altro fattore è quanto è grande la casa a me magari non servono tre camere da letto a me magari servono due o cinque e quindi sono informazioni che a colpo d'occhio mi aiutano a dire sì contatto Tiffany oppure no vado avanti nella prossima casa e di nuovo informazioni chiare mi permettono di andare avanti e permettono a Tiffany di non ricevere chiamate del tipo sarei interessato alla casa su Evergreen Terrace al 742 ho un budget di 500.000 posso vederla e no perché costa 750 come scritto però è scritto piccolo e magari uno di fretta mentre sta facendo altre cose mentre magari se ha bisogno di una casa con tre camere da letto magari ha dei figli magari dei bambini piccoli che in quel momento stanno piangendo mentre sto cercando casa quindi non è che sia perfettamente in un posto calmo tranquillo e stia dedicando il 100% di attenzione alla ricerca di casa succedono altre cose nella vita sto usando un sito perché è lecito e in quel contesto specifico un'informazione più chiara mi aiuta a prendere una decisione migliore a non fare errore a non far perdere tempo a Tiffany a non perdere tempo io a dover telefonare a un qualcuno che so già non avrà la soluzione giusta in quel momento per me quindi significato e poi quando navighiamo sul web c'è sicuramente una struttura delle pagine che sono riconoscibili tra siti beh questo c'è scritto che cos'è però che cos'è perché c'è scritto ma che cosa è questo delle informazioni in evidenza ok e questo noi lo riconosciamo anche senza aver visto il contenuto perché è una struttura della pagina riconoscibile e se voi andate su un altro motore di ricerca che non è google avrà una struttura della pagina di nuovo estremamente simile se voi andate su bing ho messo che esista ancora suppongo di sì se voi andate su bing e cercate la struttura della pagina non sarà se cercate qualunque cosa non sarà totalmente diversa da questa sarà simile perché è familiarità perché se voglio passare da un motore di ricerca a un altro posso farlo senza dover reimparare utilizzare tutto questo che cos'è sta cover flow e queste cosa sono sì su sta cover flow non ci sono sì ci sono post ma cosa sono su sta cover flow i post delle domande con le loro risposte e in effetti questa è la pagina di sta cover flow quindi se voi fate un sistema di domande e risposte che non è sta cover flow ma ovviamente è un sistema di domande e risposte come è sta cover flow probabilmente vorreste replicare la stessa struttura della pagina non gli stessi colori non le stesse informazioni ma la stessa struttura di nuovo per familiarità soprattutto se lo fate per qualcuno che se volete in un certo senso rubare i clienti a sta cover flow o è un qualcuno che usa sto cover flow e quindi è già familiare con quel meccanismo e quindi andare su un un sito di ricette per programmatori magari può andar bene lo stesso questa struttura perché ricette domande e risposte su come si cucinano certe cose e sempre domande e risposte non è di questo tipo ma ho familiarità con l'ambiente e quindi mi è più facile navigare utilizzare il sito e anche ovviamente le convenzioni aiutano a riconoscere la struttura dicevamo prima il menu hamburger ma anche la barra di navigazione in alto è una convenzione ormai che siti web abbiano la barra di navigazione in alto come navigazione primaria almeno le applicazioni mobile dove hanno tipicamente la barra di navigazione? sotto magari dipende da che sistema operativo ma diciamo in genere sotto in basso allora se voi vedete un sito con la barra di navigazione sotto invece che sopra vi sembrerebbe almeno strano probabilmente perché? perché siamo così abituati come convenzione che la barra di navigazione principale è in alto sotto il titolo che ce l'aspettiamo là e quindi quando vogliamo andare a cercare un link andiamo a cercarlo lì e se non c'è più lì rimaniamo per un attimo disorientati e come dice quel libro che vi ho detto prima dobbiamo pensare a dove è andata a finire cercarla nella pagina e quindi abbiamo uno step in più quindi le convenzioni aiutano a fare le cose meglio a rendere più simili le cose ok facciamo 20 minuti di pausa e poi riprendiamo da qui